Ben ritrovati amici del Centrometrio Italiano. Temporali e possibili nubi fragili sono attesi a partire dalle prossime ore, soprattutto su Piemonte, Liguria e Sardegna. Su queste tre regioni, le più colpite dalla nuova fase di maltempo, è alto il rischio di fenomeni intensi a tratti violenti, soprattutto giovedì 11 ottobre, con accumuli, secondo le ultime uscite dei modelli, che localmente potrebbero raggiungere i 200 mm. In particolare, le precipitazioni più forti sono attese sulla Liguria di Ponente fino a Genova, ma non mancheranno temporali intensi anche sulla Sardegna orientale, così come sulle zone a ridosso dei rilievi piemontesi. Piogge e acquazzoni non risparmieranno neanche gli altri settori di queste tre regioni, con il maltempo che insisterà in maniera più marcata, specialmente nelle ore diurne. La situazione sarà attentamente monitorata e tutti gli aggiornamenti sulle previsioni per le singole località saranno sempre disponibili sul nostro sito. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.